Ciao a tutti ben ritrovati, allora oggi andremo a vedere come funzionano le funzioni logiche quindi andremo a capire come si fa a fare un end, un or, un if, un if error e vedremo anche come funziona la parte blank allora andiamo nel file di esempio qui ho creato la solita tabellina che mi vedete in tutte le lezioni sono andato su power pivot, aggiungo il modello dati poi ho fatto una bella pivot facendo menu inserisci, tabella pivot uso il modello di dati di questa cartella di lavoro così ho ottenuto una pivot bidimensionale dopodiché sono andato appunto qui e vedete ci sono delle fx che ho creato, delle funzioni per creare appunto tutti gli esempi allora andiamo a vedere come ho fatto le misure andiamo su gestisci misure e andiamo sulla prima allora vi do un'informazione per non diventare ciechi tenendo premuto il tasto control e andando con la rotellina in avanti vedete fate uno zoom del codice questa è una cosa bellissima e comoda da utilizzare quindi invece se fate control e rotellina indietro ovviamente andate giù con lo zoom quindi qui che cosa ho fatto? praticamente come nella precedente lezione io ho fatto una sum mix quindi faccio una somma poi gli devo dire la tabella di riferimento ora qui invece parto subito con il filter come vedevamo gli do la tabella di riferimento in modo da filtrare il mio set di dati ok? quindi filtro il mio set di dati come? dico che voglio che sia and quindi uso l'operatore and la tabella attività lavorativo festivo deve essere uguale a festivo punto e virgola il campo città deve essere uguale a belluno quindi land è come la formula su excel solo che ovviamente in italiano scriviamo e aperta tonda poi mettiamo il criterio 1 punto e virgola criterio 2 punto e virgola criterio 3 e così via per chi usa l'excel in inglese spostarsi sul dax è un attimino più semplice perché alcune tante delle funzioni che sono su excel in inglese sono uguali su sul dax invece avendo la versione in italiano abbiamo tutte le formule convertite in italiano in dax è tutto in inglese quindi la prima soluzione è utilizzare land proprio come scritto se dobbiamo fare l'or ovviamente qua scriviamo or ok? e quindi facciamo questo o questo e poi una volta fatto il nostro filtro una volta selezionato il nostro set di date ovviamente qui diciamo quale misura andare a sommare come vedevamo appunto nella lezione precedente quindi questa è una prima soluzione infatti abbiamo festivo e belluno ok? e qui dicevamo appunto che deve essere festivo e città belluno e mi somma altrimenti non fa niente l'altro sistema qual è? qui vi ho fatto un'altra misura ok? facciamo modifica facciamo un bel zoom se utilizzare praticamente posso scrivere and qui aperta tonda e così via e poi chiudere appunto la funzione and è usare la doppia e commerciale quindi and and scrivendo così è come fare and quindi se devo mettere un altro criterio and and criterio and and criterio ok? se invece devo fare or si fa shift e si preme il tasto sopra al tab quello a sinistra dell'uno e si fa la doppia barra facendo la doppia barra io faccio la condizione logica di or ok? quindi abbiamo due modi per scrivere l'and a seconda di come più preferisci preferite and punto e virgola però in criterio o punto oppure and o se volete fare l'or con la doppia barra di solito quando se ne fanno due io utilizzo questa tecnica qua se ne devo fare più di due mi trovo più utile utilizzare la funzione vera e propria bene questo l'abbiamo visto dopodiché cosa ho fatto? ho fatto la tassa la tassa come funziona? praticamente facciamo un bel po' di zoom eccoci la tassa come funziona? allora anche qui faccio una sumx la stessa funzione che vedevamo nella precedente lezione e qui gli dico sempre la tabella di riferimento quindi non uso filter in questo caso e dopo gli dico l'operazione che voglio svolgere voglio fare il venduto moltiplicato e qua faccio un if gli dico if ok? che è come il se in excel solo che è scritto in inglese quindi if una i apriamo la tonda e gli diciamo guarda se il lavorativo festivo è uguale a lavorativo allora mi fa il venduto per la tassazione altrimenti vedete quindi se il criterio è soddisfatto punto e virgola mi restituisci questo altrimenti mi fa il venduto per la tassazione più la maggiorazione perché nel festivo c'è una maggiorazione dopodiché ovviamente per far uscire il dato corretto della tassa ho fatto anche meno la somma di venduto così ho appunto la formula calcolata nel modo corretto in modo che mi dia la tassazione basata sul venduto dopodiché quindi appunto l'if if criterio punto e virgola altrimenti punto e virgola lo rivediamo un secondo ok if aperta tonda criterio punto e virgola soluzione 1 e se invece non è soddisfatto il criterio punto e virgola soluzione 2 e dopo ovviamente chiudiamo la tonda dopodiché if error allora qua vengono fatti 3 per farvi capire meglio cosa si può fare non fare difatti se vedete in questa c'è scritto non calcolabile questa qui è una misura io ho scritto del testo dentro le misure questo anche per farvi capire che nelle misure utilizzando il duck si possono fare anche cose un po' particolari allora vediamo come funziona questa cosa io qui che cosa ho fatto gli ho detto guarda se errore ok if error apro a tonda ok quindi faccio appunto questa operazione qua e qua giù ovviamente la vado a chiudere l'if error eccoci qua ti dico fammi la sum mix ok mi fai la sum mix sulla tabella vendita e attività e mi fai questa operazione quindi venduto diviso la maggiorazione se questa operazione mi riporta un errore di qualche tipo mi scrivi non calcolabile ok difatti cosa succede qui qui mi dice non calcolabile perché bisogna sempre fare attenzione al contesto di riga difatti se noi vediamo il venduto qua è venduto 100 diviso nulla mi dà errore quindi è giusto che scrivano non calcolabile però appunto voi potreste dirmi ma guarda Lodovico 471 diviso 0,8 è calcolabile perché mi scrive non calcolabile la risposta è molto semplice e l'abbiamo vista anche nella scorsa lezione perché perché questo è un dettaglio di aggregazione nella mia pivot e bisogna sempre stare attenti al contesto con cui lavoriamo sum mix cosa fa compie l'operazione su tutte le righe della mia tabella che ho selezionato quindi quando io qui scrivo appunto sum mix nome tabella questo è il perimetro su cui andrò a fare questa operazione sul suo dettaglio massimo il dettaglio massimo comprende anche la data ok vedete infatti se noi vediamo l'if error lui qui me lo fa correttamente però qui che è tutto bianco non me lo fa infatti se noi vediamo la settimana la settimana 18 avevamo tutto bianco e difatti se togliamo vedete qui abbiamo bianco sulla maggiorazione però se guardiamo la settimana 19 abbiamo che qualche giorno troviamo la maggiorazione e in altri no quindi cosa succede lui qui se andiamo nel dettaglio massimo mi fa il calcolo corretto ma poi qui ovviamente non riesce a restituirlo quindi l'if error mi scrive non calcolabile quando noi togliamo il campo della data ok cambiamo il nostro contesto di lavoro però la sum mix lavora sempre record per record quindi cosa succede che quando lui ha compiuto tutte queste operazioni come le vedete qui poi lui cerca di fare la somma di questa cosa qua e non ci riesce perché non calcolabile non è sommabile con questi due numeri e quindi fallisce e mi dice appunto che questa operazione è non calcolabile all'interno di questo contesto specifico questa è una scelta ho fatto un esempio di questo tipo appunto per farvi vedere come funziona l'if error e anche per sottolineare meglio come funziona anche il contesto all'interno della pivot perché la formula risponde in un modo differente a seconda di come funziona anche la pivot quindi ho fatto altre due allora ad esempio qui dice non calcolabile che è corretto e poi mi fa una mi dà una soluzione che è errata adesso vi spiego anche il perché ma la vediamo allora anche qui ho usato l'if error però cosa ho fatto non ho fatto un sumx ho detto guarda fammi la somma del venduto diviso la somma della maggiorazione e se mi dà errore scrivi non calcolabile ok allora se io faccio una formula di questo tipo come abbiamo visto nelle prime lezioni cosa succede che lui lavora a livello dell'aggregazione della mia pivot ok quindi lui lavora su questo valore qua 4,71 diviso 0,8 4,57 diviso 0,2 mi fa 100 diviso nullo mi dice non calcolabile ok questa è sempre una scelta a seconda di quello che dovete fare avete anche questa possibilità la sumx prima aggrega tutto quindi fa la somma di risultato e poi fa l'operazione che dovete fare la sumx prima fa tutta l'operazione su tutte le rie e poi somma è proprio l'esatto opposto per quello qui funziona su questi record e qui non funziona e di fatti mi scrive non calcolabile però come dicevamo in questo specifico caso è sbagliato avere questo risultato perché perché se io mi tiro giù la data ok vado a fare la somma della settimana 19 che è questa ok che mi fa appunto 4,71 diviso la maggiorazione di soli due giorni ok e non mi vede la maggiorazione qui che è nulla che magari sarebbe corretta metterla a zero o quel che è quindi non fa un calcolo proprio preciso ovviamente è sempre una scelta del dato che volete ottenere leaf error 3 funziona correttamente ok perché usa sempre una sumx però non usa leaf error perché in questo caso specifico leaf error non è utile per ottenere il dato che hanno i server quindi quindi faccio una sumx su questo perimetro di dati qui ok e poi faccio la funzione divide che abbiamo già visto quindi divide il venduto punto e virgola la maggiorazione e se da errore questa operazione mi mette zero così facendo cosa succede che se io tiro giù la data appunto se qui dove prima era non calcolabile ok perché il venduto diviso nullo è un errore e qui mi mette zero così poi quando la sumx va a sommare questo risultato riesce a darmi un risultato e mi fa la somma di queste due operazioni dandomi appunto il risultato corretto ovviamente se guardiamo l'esploso abbiamo lo stesso risultato perché sul divide abbiamo lo zero e qua abbiamo il non calcolabile col divide non possiamo mettere un testo come risultato di errore invece con la if error si può mettere anche un testo un'altra cosa importante andiamo sul if error ok al posto di scrivere non calcolabri io potrei dirgli guarda mettimi zero e potreste dirmi appunto ma perché non metti zero così dopo quando fa la sumx mi somma lo zero purtroppo non funziona vedete adesso io metto lo zero e comunque lui mi fa zero per tutto perché mi vede un errore dappertutto quando fa l'aggregazione non riesce a fare questa cosa qua all'if error bisogna proprio usare sumx e divide un'altra cosa che possiamo fare al posto di mettere lo zero possiamo utilizzare la funzione blank quindi se noi non vogliamo riportare un risultato di nessun tipo quindi né un testo né un numero qui basta scrivere blank ok aperta e chiusa tonda noi diamo l'ok quando gli diamo l'ok lo facciamo anche sulla 3 così vedete anche cosa succede blank ok facciamo chiudi ecco che vedete sia sull'if error che sull'if error 3 ok quando c'è un errore non mi mette nulla quindi anche qui vedete che a prescindere dal fatto del contesto che ci sia qui mi mette blank tiro giù la data vedete io ho tutto blank però per il fatto che utilizzo la funzione divide anche se qui c'è blank poi quando faccio l'aggregazione comunque funziona in modo corretto ok sono funzioni fatte per ragionare su questo tipo di contesto l'if error invece anche se metto 0 non riesce a fare il calcolo è comunque un'operazione utile se dovete fare qualcosa di particolare all'interno delle formule quando ottenete errore bene con questa lezione è tutto come sempre se non siete iscritti iscrivetevi al canale col bottone rosso che trovate qua sotto lasciate un like se vi fa piacere condividete il video nei social nei vostri social vi saluto alla prossima lezione a presto ciao ciao